Bene, è giunto il momento di tornare a parlare dei nostri cari nonni a cui vanno ancora tanti affettuosi auguri da parte di tutta la redazione di Padre Pio TV. Sono moltissimi gli scatti che ci state inviando, dicevo già qualche istante fa. Sicuramente non riusciremo a condividerli tutti, ma a tutti quanti voi va un forte abbraccio, un caloroso augurio e una sentita preghiera. Affidiamo la vostra protezione al nostro amato Padre Pio. Ma per continuare a parlare della vostra festa, in questo mercoledì 2 ottobre 2024, siamo felici di ritrovare Giuseppe Zola, in diretta su Padre Pio TV, di Nonni 2.0, l'associazione che a Milano si occupa di invecchiamento attivo, della partecipazione alla vita di tutti i giorni di queste figure straordinarie, preziosi, indispensabili, quali sono appunto i nonni. Giuseppe, buongiorno, ben trovato e tanti cari auguri anche a te. Buongiorno, grazie mille. Auguri che estendo a tutti i soci della nostra associazione, Nonni 2.0. Allora, raccontaci, ecco intanto il vostro sito ufficiale, raccontaci chi sono questi Nonni 2.0 e cosa fanno. Ma noi abbiamo costituito questa associazione perché siamo convinti della funzione insostituibile dei nonni, i quali non hanno certamente bisogno di un'associazione per fare bene i nonni, sanno farlo benissimo, è la natura che suggerisce a loro cosa fare, cosa dire ai nipoti, come comportarsi, nella stragrandissima maggioranza dei casi. L'abbiamo fatto perché però è bene che i nonni prendano coscienza di questa loro funzione, prendano coscienza del fatto che sono un elemento fondamentale non solo per la propria famiglia, i propri nipoti, ma per l'intera società. I nonni, in fondo, quasi nel silenzio assoluto, svolgono una funzione fondamentale per tenere insieme la società. Tengono insieme i nipoti, tengono insieme le famiglie, soccorrono le famiglie nei bisogni, anche nei bisogni economici. Ecco, quindi occorre valorizzare di più una figura, una presenza, che è un bene per tutta la società. Soprattutto in un momento in cui purtroppo sembra prevalere il desiderio da parte di una certa cultura radicale di far fuori la storia, di uccidere la storia perché nella storia tutti avrebbero sbagliato, quindi bisogna rifare tutto da capo, come se i presenti fossero senza peccato originale. E quindi in un momento in cui si cerca di far fuori la tradizione positiva della nostra storia, è bene che la presenza dei nonni sia indicata come un dato positivo. Non a caso oggi è la festa dei nonni, perché coincide anche con la festa degli angeli custodi. I nonni sono un po' come gli angeli custodi dei nipoti, gli angeli custodi o anche dei pronipoti, perché oggi, grazie a Dio, ci sono anche molti bisnonni. Quindi, insomma, è una realtà da valorizzare. Noi cerchiamo di farlo in vari modi, cioè sia a livello culturale, sia a livello ecclesiale, in bastendo rapporti con alcune diocesi che si occupano di famiglia e quindi anche di anziani e di nonni, e anche a livello sociale. Noi, per esempio, vorremmo che tutti gli aiuti economici che i nonni danno ai nipoti, se naturalmente ben documentati, vengano detratti dal punto di vista fiscale. E quest'anno segnaliamo un'iniziativa che ha proprio lo scopo di cercare di creare un rapporto tra nonni e nipoti. Il 14 ottobre lanceremo in tutte le scuole italiane un concorso scolastico per elementari, medie e superiori, intitolato Io e i miei nonni, esperienze e riflessioni. Facciamo questo concorso insieme alla CISL Pensionati e il tutto partirà dalla città di Agrigento che nel 2015, 2025 scusate, sarà la capitale italiana della cultura. Quindi attraverso questo concorso vogliamo mettere in moto un lavoro di coscienza anche da parte dei nipoti del loro rapporto con i nonni. Speriamo che questo concorso abbia successo, che le scuole lo prendano sul serio perché sarebbe un bel segnale anche perché noi siamo convinti che esiste un grande affetto dei nipoti verso i nonni, un affetto di cui la cultura dominante non parla ma che sta tenendo insieme l'intero paese. Quindi per i nonni, insomma, occorre, oltre che a fargli gli auguri, occorre anche invitarli a non, come dice Papa Francesco, a non tirare i remi in barca, a non considerarsi uno scarto della società. No, i nonni sono ancora una parte attiva, attivissima dell'intera società, ne devono prendere coscienza e devono anche rivendicare questa loro posizione. Quello che noi cerchiamo di fare. Grazie, grazie Giuseppe, ma io non solo sono d'accordo con te ma sono anche convinto che proprio nel periodo storico che stiamo vivendo questa certezza, ecco questa certezza che i nonni rappresentano da un punto di vista familiare in qualsiasi senso, tu hai fatto anche riferimento tante volte al supporto che viene poi donato figli, nipoti e pronipoti in più modi anche in forma di aiuti economici, ecco questo welfare generazionale oggi è un dato che deve far riflettere sotto più punti di vista perché ecco da una parte ci racconta anche la criticità del momento storico, sociale, economico che stiamo vivendo dall'altra ci restituisce immediatamente l'importanza della figura dei nonni che quindi è vero, svolgono un lavoro tante volte che è silenzioso, forse invisibile ma io penso che oggi ancora più che in passato l'importanza della figura dei nonni sia riconosciuta da tutti, acclarata anche se giustamente non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna provare a mettere in campo tutte quelle azioni sia dal basso, come si suol dire, sia che a livello istituzionale per consentire che il vostro contributo nella società e nelle famiglie sia sempre più importante, ecco tu per esempio facevi riferimento anche sempre restando un po' nella sfera economica alla possibilità di detrarre da un punto di vista fiscale le donazioni che vengono fatte perché quella è una materia controversa su cui magari faremo qualche approfondimento anche in futuro. Bene, vedendo il vostro sito leggevo a un certo punto che ricorre anche un decennale, probabilmente il decennale della vostra associazione o mi sbaglio? Siamo nati dieci anni fa, nel 2014 e sì abbiamo svolto una serie in preparazione della memoria del nostro primo decennale, abbiamo fatto una serie di incontri, direi molto interessanti, tutti molto interessanti, sul tema dell'alleanza tra generazioni, perché riteniamo che questo sia un tema fondamentale in un momento in cui vediamo una società che tende a dividersi, tende a urlare, tende ad andare avanti per slogan, tende a non più dialogare costruttivamente, ecco noi riteniamo che questo tema dell'alleanza tra generazioni sia un tema fondamentale per l'intera società. Abbiamo fatto una serie di incontri, ogni volta anche per manifestare già col fatto stesso il rapporto tra generazioni, su ogni tema parlava un nonno, un genitore non ancora nonno e uno studente universitario e alla fine un sacerdote. È stato particolarmente significativo l'incontro in cui si parlava dell'alleanza tra generazioni come fattore costruttivo di comunità. È intervenuto l'abate Lepori, che è l'abate dei cistercensi, il quale ha fatto una bellissima immagine, ha comunicato una bellissima immagine. Nella regola di San Benedetto c'è scritto di amare i giovani e venerare gli anziani. Padre Lepori ha tratto spunto da questa indicazione della sua regola, dicendo che i giovani, i nipoti e i nonni, sono un po' come i due poli che danno significato anche a tutte le generazioni intermedie, che sembrano essere quelle più attive, ma che non avrebbero senso nella loro attività se non ci fossero da aiutare i giovani da una parte e gli anziani e i nonni dall'altra. Sembra quasi che due apparenti debolezze, almeno così li descrive la cultura contemporanea, sono però i fattori costitutivi dell'intera società. Stiamo facendo un lavoro che riteniamo molto positivo e tra l'altro ha un primo pregio ce l'ha. Ci mantiene vivi, ci mantiene attivi, ci mantiene con un giudizio critico verso l'intera società, con un giudizio legato alla grande storia cristiana, di cui la vostra televisione mi pare sia una grande portatrice. Quindi insomma vorrei approfittare anche di questo momento per incoraggiare tutti i nonni, ripeto, a non tirare i remi in barca, a non andare, non si va in pensione dalla vita e dalla nostra responsabilità educativa. Bravo, bravo, bravo Giuseppe, grazie per queste tue parole davvero molto importanti oltre che molto belle. Per cui ecco agli auguri per la festa dei nonni, associamo anche gli auguri per il decennale di Nonni 2.0, complimenti. Grazie. Complimenti per il vostro prezioso lavoro e per la vostra presenza in mezzo a noi. Giuseppe è giunto il momento dei saluti, speriamo di ritrovarti presto, ecco magari per approfondire qualche tema specifico, per cui a Dio piacendo ci ritroveremo anche più avanti. Siamo in esposizione, magari anche per parlare del concorso scolastico di cui ho parlato prima. Molto volentieri, molto volentieri. Ancora tanti cari auguri, allora Giuseppe, buon proseguimento di giornata, buona festa dei nonni, ci ritroviamo, ci ritroviamo presto. Complimenti per la vostra attività. Grazie. È giunto il momento di restituire la linea alla regia, prima di ritrovare il collega Nicola Morcavallo con gli aggiornamenti per la giornata di oggi, per cui a tra poco.